Ciao a tutti amici, bentornati su Dite la Vostra che io dico la mia. Mi viene da dire la pacchia è finita, mi riferisco alla previsione della finanziaria dove si mette un tetto limite agli stipendi dei manager pubblici, siano essi dirigenti della pubblica amministrazione che manager delle società a partecipazione pubblica o che comunque percepiscono fondi pubblici. Il tetto è massimo di 160 mila Euro lordi l'anno, oggi pensate voi che era 240 mila Euro lordi all'anno. I 160 mila derivano dall'indennità che percepisce il Presidente del Consiglio, mi sembra un provvedimento più che legittimo, anzi si è aspettato fin troppo e questo è demerito di tutti i governi che si sono succeduti prima di questo, ad abbassare questo tetto in modo così significativo, ma giusto anche perché 160 mila Euro lordi l'anno sono un signor stipendio e credo che chi viene pagato da enti pubblici, soldi pubblici o società che prendono fondi pubblici sia doveroso dare uno stop, un limite, un tetto. La pacchia però è finita, dicevo, probabilmente questo governo, il governo di centrodestra ha deciso di dare un segnale molto importante, si taglia prima dove si deve tagliare e a pagare non sono sempre i soliti, cioè il ceto medio-basso. Benvengano questi provvedimenti, mi attendo una presa di posizione delle opposizioni che hanno sempre da dire cosa ne dite di questo taglio, giusto o sbagliato? Per me molto giusto e per voi opposizioni com'è? Giusto o sbagliato? E vorrei sentire anche la vostra, carissimi, che voi seguite tutti i giorni i miei video, cosa ne pensate? Secondo voi è giusto aver posto un tetto di 160 mila Euro lordi all'anno per i manager pubblici oppure no? Scrivetelo nei commenti, io ho detto la mia e come al solito ci vediamo domani.